Per intanto commentare un altro tuo gol personale, ma soprattutto tre punti, la prima dall'inizio è andata come volevi. Sì, 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 sono molto contento per il gol e soprattutto per la vittoria. Potevamo chiuderla prima, è andata così, abbiamo sbagliato un po' di occasioni, però l'importante era fare i tre punti. Adesso ti va un po' stretto questo ruolo di partire dalla panchina, visto che hai dimostrato di poterci stare bene in campo? Ma ogni giocatore vuole giocare il più possibile, vedremo lo spazio che troverò, però mi devo far trovare pronto come ho fatto oggi. Turris e poi soprattutto Catanzaro, si decide molto del cammino nelle zone altissime del Pescara nelle prossime due settimane? Sì, pensiamo prima alla Turris, adesso ci godiamo un giorno di riposo, meritati dopo questo periodo e poi pensiamo subito alla Turris. Che partita è stata oggi e ti lasciamo? Allora abbiamo fatto bene, a tratti, abbiamo sprecato un po' più di occasioni, siamo arrivati alla fine che si potevano tranquillamente paleggiare, però siamo stati contenti per i tre punti. Prima di salutarti ti riporto quella che era stata una considerazione che ha fatto Fabio Ferraresi da studio primo al tecnico Colombo e Colombo ha detto sì, ci mancherebbe altro. Te piacerebbe giocare con due attaccanti centrali, per esempio tu e Lescano insieme? Sì, me l'hanno già chiesto e mi piacerebbe sì, però non sono io a decidere.